Allora, facciamo una prefazione, contestualizziamoci. Io oggi non avrei dovuto fare nessun video, non avrei proprio dovuto giocare. Però questa mattina ho controllato e mi sono accorto praticamente di aver ricevuto un sacco di mail, un sacco di messaggi privati e messaggi di whatsapp, di gente che mi chiedeva di fare questo video. Di gente che aveva visto il video di ieri, quello che fra due settimane si sfancula, che avevo fatto la live senza microfono, senza webcam, senza niente, e quindi si autocancellerà, in cui praticamente alla fine del video si vede me che sto giocando ad una fase in cui praticamente muoio per ben due volte, sempre nello stesso punto. Poi siccome che io mi stufo, una volta che sono morto per la seconda volta, ho tolto tutto. Pensavo che non gliene fregava niente a nessuno, compreso me. Invece praticamente oggi ho ricevuto un sacco di messaggi di gente che mi chiedeva di andare avanti e mostrare come superare quel punto, un punto che non ho superato, quindi strategicamente, tatticamente e tutto quanto. La maggior parte di questi messaggi provengono da bambini della scuola elementare, e saluto, me li sono segnati, saluto Enrico Bottini, Garrone, Antonio Rabucco, Ernesto De Rossi e Gigi Gonzales. Oltre ai bambini elementari mi hanno scritto anche molte suore, saluto Suor Cecilia e Suor Beatrice, mentre i messaggi di Whatsapp erano da parte della mia amica Monica. Adesso c'è la miciapolpetta che mi incomincia a rompere le scatole e che devo uscire, proprio adesso che non posso stoppare, quindi un attimo. Guardatemi, dai cicciola, esci. Un attimo che ritorno. Un inconveniente della diretta, la solita miciapolpetta che deve entrare e deve uscire quando sto registrando e tutto quanto. Quindi praticamente la registrazione di oggi sarà proprio Vesterai attorno a quella fase di gioco in cui cercherò di dare consigli su una cosa che io stesso non ho superato e tutto quanto. E lo faccio essenzialmente per i bambini elementari, per quelle suore che mi vedono dai conventi, dalle parrocchie, dai monasteri e, come ho detto, per la mia amica Monica. Allora, prima di tutto avviamo la partita. Allora, per giocare ci vogliono gli occhiali. Si vedeva che sto senza calzetti. Però, nonostante sia senza calzetti e in t-shirt voglio mettermi questo berretto. Perché portare il berretto quando non serve dentro casa fa figo. Fa figo. Dato che io non ho tatuaggi non ho orecchini e quindi non sono figo mi devo almeno mettere un berretto. Adesso sì che sono figo. Lo faccio per Sor Cecilia e Sor Beatrice. Allora siccome che sono morto due volte ma sono morto a causa degli stronzi non a causa delle macchine, dei nemici dei nemici principali delle bestie meccaniche ma sono morto a causa degli stronzi che mi lanciavano le le frecce. La cosa migliore consiglio a Gigi Gonzales e a Garrone di comprarsi una cosa che io non ho comprato ma di comprarsi il vestito che riduce le ferite da da freccia cosa che io da deficiente non ho comprato. Io adesso dovrei per comprarlo dovrei sprecare ben due viaggi rapidi il viaggio per arrivarci e il viaggio per tornare indietro cosa che non faccio. Vado direttamente a dove stavo ieri perché io ripeto stavo quasi per vincere. Siccome che una quasi vittoria è equivalente ad una schifosissima sconfitta è come se non avessi fatto niente però ci vado stando più accorto Allora Ernesto De Rosse che cazzo la batteria del DualShock si sta scaricando un attimo tutti questi inconvenienti uno eseguita l'altro mettiamo questa a caricare e prendiamo l'altro G-Pet Allora allora riprendi allora dico a Antonio Rabucco e a Monica Praticamente ci sono dei tizi da ammazzare da trucidare non c'è un problema diciamo che praticamente hanno quattro bestie meccaniche imprigionate appena le tocchi o le combattie quelle si liberano e ti vengono a cagare le cazze queste bestie meccaniche sono raggruppate a due se mi ricordo bene una cioè due sono quella specie di orso orso leopardo orso puma non si capisce gigante e quella specie di pollo gigante allora il pollo è abbastanza scocciante da sconviggere mentre l'altro è più facile la strategia è attaccare il ghepardo staccargli quella specie di cannone che c'è addosso sconviggere il ghepardo il puma quello che cazzo è e poi usare quel cannone contro il pollo adesso vi faccio vedere ieri ce l'ho fatta dobbiamo vedere se oggi riesco a ripetere la stessa cosa prendiamo questo questi ci hanno già tipo e a posto li ho distrutto li ho staccato una specie di cannone quel cannone è l'unica cosa pericolosa che c'ha questa specie di puma che adesso è scomparsa adesso fra un po' ritornerà di sicuro comunque io posso invece di invece di aspettare che torna afferro il cannone che aveva lui e ci distruggo quest'altra macchina a posto adesso scappo perché è in questa circostanza che l'altra volta sono mosse più avanti conviene a distanza ammazzare i bastardi lo stronzo mi si doveva mettere avanti proprio è incredibile è incredibile come questo cazzo di gioco un gioco fantastico e tutto quanto sia più difficile ammazzare gli esseri umani che gli devo sparare un miliardo di volte che non bestioni meccanici alti 15 metri perché la fregatura è che se mi colpiscono quelli con le frecce mi tolgono un sacco di energia quindi basta che mi colpiscono due volte la si è liberato uno stronzo il pollo gigante vorrei fare vorrei commettere le stesse ore di ieri scappiamo allontaniamoci allora la seconda la seconda fase del combattimento la faccio passando di sopra capito monica la faccio passando di sopra allora ed è qui suor Beatrice suor Sicilie che è la parte di cui bisogna stare attenti se il gepardo non si è liberato eccolo là il gepardo devo cercare di togliergli il cannone a forte tiro porto ho sparato a cazzo acqua culo è importante l'agile evitare evitare vaffa culo vaffa culo ammontaniamo hai capito garrone hai capito come si fa è tutta una questione di agire schivarlo nel momento giusto allora adesso non devo commettere la stessa cazzata di ieri la cazzata di ieri nasceva ecco qua allora ci sta un pollo dove cazzo sta l'arma ci va dice un pollo quello lo faccio fuori con il cannone di quell'altro allora ieri sono morto in questa circostanza mentre sparavo dall'alto questo stronzo di lato mi ha ucciso oggi me la sto cavando molto meglio ma è proprio quando uno abbassa le difese che perde fammi raccogliere sta roba vedo qualcuno che si sta avvicinando qualcuno che eccolo qua e le munizioni sono finite non voglio commettere lo stesso errore di ieri che sono andato addosso a quegli stronzi preferisco più tenermi a distanza oggi oh no che fretta c'è i due tizi con il teschio quel teschio significa che quei tizi hanno un'arma speciale pericolosissima dai pure la capriola cioè non gli tolgo niente tu puoi vedere ma loro non possono vedere te è più difficile sconviggere sti cazzo di stronzi che non mi stanno accerchiando uno sta là dietro fanculo avete visto quanta cazzo di energia mi hanno tolto comunque se l'avessi saputo mi sarei comprato quel cavolo di vestito infatti la prossima volta mi lo vado a comprare appena c'ho la possibilità perché io non sono abituato a cambiare vestito a seconda delle circostanze dai mamma mia ah lo spreco di risorse incredibili è finito ce l'ho fatta diventato pure notte cioè io in teoria potrei concludere il video a cui sta smettendo non dovrò più scrutare nel bianco allora dove cazzo devo andare adesso vorrei scendere qua sotto per vedere se posso recuperare qualche gingillo un topo non ho mai visto un topo in questo cazzo di gioco dove cavolo è andata a finire là c'è qualcosa di interessante un gioco meraviglioso capito monica non capisco tutta la difficoltà che hai avuto tu ieri non ce l'ho fatta solo perché non ero concentrato c'era Enrico Bottini tutto preoccupato ho visto il video ho visto che non riesci che non riuscivi a superarlo per favore riprova ecco Enrico Bottini ecco non penso proprio che sia il momento più difficile del gioco chissà quanti altri ce ne staranno però basta andare cauti ora devo trovare una saliamo qua sopra dove cazzo stai mi sarebbe gustato salvare e togli di all'anno che significa tipo dispersione del gas allora siete svegli che cazzo spero che si segni voglio vedere se gli esseri umani muoiono con quel tipo di colpite cioè io con questa mossa abbatto gli ossidi robò e quello stronzo non muore vaffanculo ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando ma vaffanculo scusate il linguaggio sono sicilia ma vaffanculo poi c'è la gatta la di fuori che deve rompere i coglioni no sto perdendo la calma allora abbiamo capito che quest'arma non serve a un cazzo con due esseri umani non si sa ma con due esseri umani non serve a niente il fuoco io qui lo stronzo lo devo sconfiggere non mi frega niente mo devi ripetere tutta la scena vabbè spero che si salti si salta la scena no niente non salta la scena ah ecco non gli ho tolto niente gli ho sparato tre frecce di fuoco poi ha fini che lo sconvico di questo modo vada ci stanno certe certe cazzate ce lo sconvico stando di nascosto o meglio ci pensa tutto l'amico mio la smetti di piangere monica era una cazzata la facciamo entrare la gatta o non la facciamo entrare la facciamo entrare la gatta allora metto pausa un attimo facciamo entrare la gatta dai Misha entra dove cavolo stai Misha basta non ci sta che rottura di coglioni allora non l'ho trovata io ho aperto la porta e non ci sta accogliamo che rottura di coglioni veramente oh ma porca troia dai entra entra la cosa migliore la cosa migliore che potresti fare Misha è metterti a dormire dove stai? non si sa voglio finire questo capitolo con questo dovrei fare bella figura oh bella figura c'è dispositivo sonico oh Misha ma che cavolo ti ho fatto entrare adesso cosa che faccio scusate un attimo scusate Gigi Gonzales e Ernesto De Rossi ma do una crocchetta arrangigiano Misha vieni qua Misha vuoi una crocchetta? vieni qua vieni qua mangia ti la crocchetta mangia ti la crocchetta vetti a dormire cazzo allora io sinceramente non mi ricordo cioè non riesco a seguire la storia di sto gioco seguo la storia generale ma non le sub quest del cazzo non riesco non so dove cazzo sto cosa sto facendo non so io pensavo fosse il gas che stava tutto per esplodere invece erano tipo delle onde sonore tutto quanto con il montaggio di questo video quando io rifarò il montaggio e metterò la ripresa della webcam su Google poi usare una mascherina che ho appena fatto di stambo star trekiana solo che una volta finita perché io faccio sempre così ogni volta che faccio un disegno faccio una foto faccio qualcosa appena finisco mi accorgo di un difetto che poi non vado a correggere purtroppo il difetto di questa mascherina in stile star trek pensavo di eliminare sta nel fatto che lo spazio che ho lasciato al gioco che ha la risoluzione per i 720p forse è un po' troppo piccolo però che cazzo se ne frega c'è ci sta troppa decorazione attorno ma che cavolo se ne frega te ne frega Monica dai se mi perdonerai ora basta giocare mi sto scendendo a Crianas lo farò promesso ti conviene ma chi è non so più niente chi è questa chi è allora suor Cecilia e sor Beatrice insieme a Ernesto De Rossi a Garrone potete mandarmi un'email in cui mi spiegate la storia di questa sub quest volete sapere quanti chilometri ho fatto oggi oggi ho fatto 10 chilometri esatti mi dispiace dobbiamo trovare Derval ma Meridiana è troppo grave la sua mia papà sor Cecilia io guarderò fra le sue cose ci aiuteranno a trovarlo guardiamo tra le sue cose perché ci aiuteranno a trovarlo allora raccogliamo qualcosa qua che cavolo sale sopra solo note sulle sue creazioni e una lettera nascosta fra le pagine molta vampa diretta a Meridiana non ha raccotto bobbina di ghiaccio non ha raccotto perché ho lo cazzo di inventario pieno allora che faccio andiamo sulle cose più inutili tipo qui e togliamo ce lo da le palle poi che facciamo andiamo sul vestiario andiamo sul vestiario reparto creazione del vestiario e vediamo se troviamo qualcosa da sostituire questo è il 26% di resistenza al fuoco no? no? già che metto questo aumenta un po' di più questo che è? 28% della resistenza alla corruzione quindi niente andiamo nel reparto di qua fortività 10% vediamo se ci sta qualcuno quando mi ho cioè proprio fa sta roba mi fa proprio schifo andiamo sulle armi fuoco 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 arco di precisione 37 49 24% di lacerazione vediamo se qui passiamo a questo ma le metto giusto perché così tolgo una bobina allora c'è il 26% di che cazzo era il 26% danni vediamo se va bene e basta mi sono cioè mi sono rotto io a farlo a vederlo allora vediamo se puoi raccogliere adesso questa macchina è stata distrutta con precisione e allora qua ci sta qualcosa dove sonare in grado di paralizzare le persone che strano dispositivo ha una bella fattura cosa succede se lo aziono sembra che ora funzioni ecco adesso dite qualcosa a rottinelle non so che cosa vuoi che dica quello che vuoi voglio solo sentire le vostre occhi e conservarle io canto papà la 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 o garrone una canzone e una risata meglio delle parole e adesso potrò ascoltarle ogni volta che morrò abbiamo finito allora fila a letto tu buonanotte mamma buonanotte papà è andata che cosa faremo gli assalti sono sempre più vicini a prima volta cioè non finisce mai questo dialogo del che scusate sul cecilia e sul patrice so chi chi ha cosa ha imparato derval dai suoi marchi ingegni mi interessa davvero allora cioè in che posizione stai in ginocchia ora torniamo al palazzo vai come fa una a mettersi così ma ho bisogno di restare con mia sorella è praticamente impossibile cioè il peso è come il cavolo fa a reggersi si sa cavolo non sono riuscito neanche a prendere un punto esperienza per aumentare devo arrivare a tre mi interessa prendere lo scatto silenzioso capisci monica monica con lo scatto si è inzioso possiamo ridurre le possibilità di allestare i nemici nei paraggi il resto delle cose mi sembrano delle cazzate totalmente inutili come questo ma aggiungi il palazzo del sole finito missione secondaria queste cazzo di armi della loggia non me ne frega niente perché il gioco lo finisco senza avere questo che è terrore dai cieli missione secondaria insieme ai confini di rupestre sotto l'attacco degli smerigli ma non avevamo fatto questo vai a rupestre ci sto capendo un cazzo la differenza sta tra questa e la missione principale in cui io spero che questo gioco dopo che l'ho finito cioè non è una speranza perché io so che lo posso fare posso ricominciarlo in teoria con lo stesso personaggio potenziato della fine del gioco la cosiddetta nuova partita più semmai rifarò e la rifarò chissà fa quanti mesi magari fra un anno la nuova partita più seguirò solo la missione principale perché cazzo non ci sto capendo nulla andiamo sulla mappa vabbè mi posso teletrasportare qui inutile che faccio mi teletrasporto qui e basta un libretto sembra che ho la testa un miracolo smirigli questa deve essere rupestria la fregatura della web è un nemico quello è un nemico se no che me la dà fa spagano ma ci non so là cazzo cazzo quello che si muove così velocemente io manco a vedere ecco le cose se lui si fermasse devo attirare l'attenzione di lui una volta colpiti con una freccia di fuoco su cadono faffanculo faffanculo una volta caduti e una volta caduti caduto non so caduto 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 in un punto un po' confezionale posso cadere vabbè quello è praticamente morto faffanculo 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 mentre spara uno non vedo gli altri vabbia però piacerebbe non sprecare troppo inizioni fortuna che non devo salvare nessuno perché se la missione fosse restata di salvataggio a quest'ora erano tutti artistica sticco 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 faffanculo faffanculo cadi qua dove sto io no guardate che posso fuori la bellezza dei combattimenti di questo gioco come diceva George sta nel fatto che devi essere tu a mirare lì la difficoltà altrimenti che cazzo sarebbe altrimenti pure un gg qualsiasi altrimenti pure garrone che cazzo che cazzo 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 Guarda, quando c'è il combattimento c'è quello che se la rode nel suo spiazzale sotto, con le mani in tasca. Voglio finire questa cazzo di seconda missione. Cioè, ma questi proprio ridicoli, cavoere, che posso pure commercializzarci. Cioè, durante il combattimento, durante la missione, posso commercializzare. Io direi che è giunto il momento di comprarmi l'abito, se me lo vendi io me lo compro. C'ho i soldi, c'ho tutto. Protettrice dei Nora pesanti. Questo mi manca un cuore di arca pod, però che me ne frega. Quasi quasi mi compro qui. Questo a che cazzo serve? Protegge gli attacchi di mischia. Protegge dalle punte delle frecce. Io me lo compro, pappa. Usa più tardi. Me lo compro, però non me lo metto. Che schifo. L'aspetto è schifoso. L'aspetto è veramente schifoso. Allora, andiamocelo a vedere. È brutto perché c'è qualcosa sulla testa. Però, ah bene. Questo posto può essere in bilio con un oggetto di modifica. Che ci mettiamo? Attacchi di mischia. Attacchi di mischia. Attacchi a distanza. Allora, esistenza della corruzione. Devo metterci per forza questi. Esistenza di attacchi di mischia. Però tolgono pochissimo. Direi di mettere questo. E di non usarlo mai. Perché ormai io penso che la missione in cui mi serviva usarla è quella che ho già fatto. Come c'è resta? Come c'è resta? Questi. Io spero che quando li abbatti, abbatto tutta la città, qualche tizio che poi... Ah, vieni qua, vieni qua. In questo gioco se c'hai la strategia, stai a posto. Tutta una questione di strategia. Cadono sempre in punti di stabile. Noi, vieni qua. Noi, vieni qua. Noi, vieni qua. Non c'è nessuno perché la missione non è finita. Non mi raccoglie sta roba. Noi, vieni qua. Cosa c'è? Cosa c'è? Perchè gli smerigli hanno attaccato? Meglio parlare con chi comanda. Io parlo con tutte le persone che vuoi Monika. Basta che mi danno un'esperienza. Donna, che è mattina? Che è tutta sta luce? Mi piacerebbe trovare un bel falò. Che cazzo? Riesco a perdermi pure in una cittadina di merda. Finta. Devo andare là sopra. Fammi salvare. Non ce l'avremmo fatta senza... Senza? Senza di me. Dove cazzo stai? Tizio con cui devo parlare. Chiunque di noi sarebbe potuto morire. Donna mia quando sei brutta. C'è le tette da fuori? No. Ti prego dimmi che è finito. Questa sta puli per terra. Oggi siamo chiusi. Chiusi? Chi... Chiusi? Chi... Cazzo stai? Questa sta qua a bere appena salvato il mondo. Questa sta? Sembra abbastanza forte da lavorare nella borgia. Capito Monica? Perché hai dovuto succedere? Allora. Sta a 30... Ad una distanza di 30 passi da me. Mi viene quasi voglia di gettarmi di sotto. Morirò? No. Allora. Sta a 17... Di qua. Ma porca troia. Com'è potuto succedere? Fanculo. Uscitava la scala. Chi è questo? Parla corralto. Sei apparsa come un arcobaleno e ci hai salvato le ghiap. Ma da dove arrivi? Un uomo di nome Akurt mi ha avvisato fuori dal villaggio. Traditore! Gli avevo detto di stare zitto. Ora se la vedrà coi ferri. È morto. Come? Quel meschino, lurido, marcio, farabutto d'un fratello! Perché non ha ascoltato? Perché? Lui... Lui... Teneva che tu e l'intero del villaggio degli stammicisi. Finiamo questa missione... E poi chiudiamo tutto. Hai idea di cosa possa aver attirato gli smerini? Sei felice! Antonio Rabucco ed Ernesto De Rossi. Oddio... Qualcuno ha cercato di vendere esche. Sono dispositivi che attraggono le macchine. Ah, davvero? Cos'è, una specie di scherzo onore? Lo prendo come uno. È cambiato qualcosa che possa aver attirato gli smerini. Avete lasciato parti di macchina in giro? Ma no! Gli Oseram usano i rottami. Non come i Carja. Loro tengono solo le parti migliori. Quindi i Carja hanno lasciato rottami nei paraggi? Qui? Mai! Se un Carja sprecasse rottami davanti a me... Lo finisco a giocare a questo gioco. Poi mi stendo sul letto e mi leggo. W per vendetta. Perché credi che i Carja abbiano a che fare con l'attacco degli smerini? Questo avamposto è nato per proteggerci dai Carja. Ora vengono qui a fare scambi. Bene. I loro frammenti valgono come gli altri. Ma sanno tutti che vogliono questo posto. Mi lacrime a noi gli occhi. Vogliono qualunque posto. Ma come hanno fatto i Carja a mandarvi gli smerini? Perché... Sono emozionati. Vedrò di mandare uno dei miei uomini sulle loro tracce. E le emozioni. Mi portano dritte ai Carja. Cosa fai esattamente qui? Sono il sindaco. Forse perché ero troppo ubriaco per dire no a mio fratello quando me l'ha chiesto. Dimmi dov'è. E lo seppellirò quando ci saremo sbarazzati di questi smerini. Potrai trovarlo a sud di qui. Lungo il fiume. Maledetto sciocco. Che idiota. Quel presuntoso. Dove ti trovi? Mi trovo a sud. Grazie. Per averlo assistito. Vabbè l'abbiamo finito. Indagherò. Perché non lasci indagare me sull'attacco degli smerini? Quindi la missione... Ancora va avanti. Non finirà mai sta cazzo la missione. Nessuno mi ha mai offerto aiuto. Sei brava con le tracce. Sai? Puoi dirlo forte. Fammi sapere cosa scopri allora. Incudini e martelli. Ci sono i Carja dietro. Manca tutto questo. A parte che mi servono tre punti per comprare quell'affare. Quindi... Quindi anche se ho un passo di livello non posso comprarmi la corsa silenziosa. Ispezione rupestria. Quindi per questa rupestria. È finita. Questa. Ci si no. Viva là. Viva la Questa. 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 Questa è una teoria. Questa è un altro... Questa è un altro... Sì. Romano. Spegniti! Spegniti. Il dispositivo sta inviando un segnale. potrebbe essere questo ad aver attirato gli smerigli che stai facendo? per il sole non vuole spegnere questo c'è gli occhi che mi ricorda quello del trono di spade a cui gli hanno tagliato il cazzo io non ho idea di come si spenga né di come abbia fatto ad accenderlo l'ho recuperato in una vecchia officina oddio le scelte multiple che non servono a niente i miei clienti domandano prezzi straordinari spesso ai confini della realtà non ha un senso logico cioè non sblocca delle risposte particolari e soprattutto una domanda non mi esclude l'altra ma che serve farlo? tanto vale che schiaccia il tasto e mi vedo l'intero dialogo dall'inizio alla fine gli smerigli non volevo che accadesse questo volevo solamente saziare l'appetito di ricchi nobili che non lasci mai la loro dimora il sensore la lente angolare di tipo grande angolare mi sono accampato deformano la parte esterna dell'immagine quindi io dimagrisco ma si fa che ciò è per la pancia ma vaffanculo c'erano altri dispositivi in questa officina dell'equipaggiamento mai vista c'è un silo insolito che ha reso completamente vani i miei tentativi di aprirlo mentre cercavo pensavo a quanti segreti sono ancora nascosti in questo mondo visto che nella nostra profonda ignoranza noi e quindi? oh non ho visto altri dispositivi ma potrebbe essercene ancora uno pronto a scatenare i suoi orrori smerigli sapevi fin dall'inizio che questo dispositivo attirava gli smerigli? per il sole no l'ho tenuto qui per un po' se Monica sta mandando altre immagini altre altri messaggi questa mattina mi ha rinvito di messaggi non riusciva a superare quel punto era disperata allora è un dispositivo pericoloso devo trovare quell'officina e assicurarmi che sia l'ultimo dov'è? sulla dorsalestra poco dopo il mio accampamento ma quando sono tornato dall'officina un fragore mi ha avvertito del mio destino mi sono gettato nel fiume poco prima che una valanga la volgesse il sentiero non puoi raggiungerla la salita è troppo pericolosa allora la faccio la prossima volta tu resta lontano dall'officina e cerca di non provocare attività ora mi avvicino il più possibile e basta ora mi avvicino il più possibile e basta allora quel cargia ha detto che l'officina era vicina al suo accampamento sulla dorsale est allora non ho capito che cazzo devo andare potrei teretrasportarmi qua arrivo a questo punto e poi smetto lo prometto monica arrivo fino a quel punto e poi smetto sto molto accorto di se io mi tuffo qua poi risolgo non ho visto il ponte mi sa che punto sto del gioco se sto per finire se sto per finire due non ce la faccio il gioco c'ha una grafica proprio che mi stupisce oh l'ho presa un volo nessun trofeo per sta cazzata vediamo se no niente no non mi veni addosso perché non me ne va proprio prima stavo dalla parte dall'altra parte del del fiume poi mo che ho superato il fiume risulta che il fuoco sta dalla parte qualcuno si è accorto di me si sta avvicinando niente come ho detto adesso salvo devo fare silenzio e la partita di oggi è terminata questa me la lascio quindi adesso saluto a tutti saluto Garrone Sol Cecilia e Gigi Gonzales alla prossima allora interrompi trasmissione ciao ciao